Ehi là! Voi direte, ma chi è questo giovanotto? Pitio, 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 pitio. Dunque, è il vostro amico Bracardi. Dunque, oggi è un martedì, sono a Roma, è una giornata caldissima, oggi è il 17 maggio, io non sono superstizioso, 13, 17, è uguale. E' una giornata caldissima, però è una meraviglia, perché c'è questa brezza, io adesso trasmetto dalle parti di Ponte Emilio, lì è molto aperta Roma, e quindi arriva Lubolendino, è una meraviglia, si sta benissimo. Bando alle chiacchiere. Allora, ci sono degli ammiratori fantastici, per esempio due ragazzi che cantano, hanno una voce da tenori, arrivano proprio sopra il rigo con una facilità. Non so, penso che siano di una città del settentrione. Uno suona la tastiera e l'altro, insomma, cantano tutti e due con una voce tenorile incredibile. Allora, cantano una mia canzone, tarararara rari rari, amore mio, tarararara rari, non mi va a venire il testo perché mi imbarazza, e sono bravi. Allora, a me piacerebbe fare una cosa con questi due ragazzi, io mi permetto di inviarvi non so né nome né cognome però siete due giovani tra l'altro uno fa un finale fantastico esce dallo schermo poi rientra e fa una pernacchia eccetera eccetera allora uno suona la tastiera e l'altro canta eccetera eccetera allora io mando l'indirizzo Giorgio Bracardi Yals Yals è Ilungo A L Z è una sala un grosso centro dove vengono ad allenarsi ballerini formano compagnie cose insomma è una cosa molto importante a Roma via Fracassini 6-0 Roma il codice purtroppo postale non lo so io non posso mandarvi il mio numero di telefono se no succede il fin di mondo quindi Yals il lungo A L Z via Fracassini 6-0 Roma poi c'è un gruppo di ammiratori scatenati sono una trentina quarantina che hanno fatto un video che io ho visto più volte che loro urlano Bracardi ci siamo anche noi mi piacerebbe che anche loro venissero a Roma e si potesse organizzare insieme a questi due ragazzi qualcosa di interessante e quindi vi mando l'indirizzo anche a voi Yals via Fracassini 6-0 Roma siete tanti ho visto 30-40 ragazzi scatenati tutti insieme in primo piano e quindi sarebbe una cosa molto divertente ecco questo è il messaggio che mando a questi ragazzi giovanissimi e bravissimi specialmente i due tenori sono formidabili vi saluto qui Giorgio Bracardi Giorgio Bracardi